Sfondata la quota 100.000 casi in Spagna, è salito a 102.136 infatti il numero dei casi accertati di coronavirus, 7.719 in più rispetto a ieri. Lo ha reso noto il Ministero della Sanità di Madrid, che ha indicato le comunità autonome di Madrid e della Catalogna come le più colpite. Maria José Sierra, coordinatrice dell'emergenza del Ministero della Salute. Ad oggi, per quanto riguarda il numero dei decessi, abbiamo 9.053 persone morte a causa del coronavirus, con un incremento rispetto a ieri di 864 vittime. Il numero totale dei positivi da coronavirus è di 102.136 casi. Di questi, 5.872 pazienti sono stati ammessi o sono ancora in terapia intensiva. In generale, quello che possiamo dire è che c'è un aumento dei casi rispetto a ieri di circa l'8%, che ci dice che siamo ancora in una fase di stabilizzazione della pandemia. Il numero dei contagi in Spagna ha subito un'impennata nell'ultima settimana, con i decessi sempre in crescita. E il Paese, il principale quotidiano spagnolo, scrive che il Paese, una settimana indietro rispetto all'Italia, potrebbe raggiungere la cifra di 25.000 morti entro i prossimi 5 giorni. Questo è il titolo scelto. La Spagna deve contenere il coronavirus più velocemente di Ubei e Italia per non superare i 25.000 decessi in due settimane.